Mi sembra di cogliere, no? Come se ci fossero quasi dei problemi sciocchi che esulano da quello che è l'aspetto economico. Voglio dire non uno che dice mille diecimicia, no, invece che ci siano magari delle piccole cose che si possono risolvere più facilmente. Ho capito bene? Io penso che venendo qua ho trovato un sacco di problemi, cioè vari, di gestione, di tutto. Cioè secondo me adesso sono cose molto semplici, banali, cioè lo vuoi, non lo vuoi, ti metti d'accordo, non vuole lui. Cioè mi sembra tutto là, che basta sedersi, cioè parlare e poi vedi. Questa è la mia idea un po' della situazione, no? Cioè che è molto più semplice di quello che si fa vedere o che è quello che creano. La gente, insomma, sente che quell'anno prossimo, insomma, che il suo lavoro sta andando in quella direzione, immagino di sì e che siamo arrivati a un punto di svolta in quella direzione. Ah, non lo so. Io penso che, come ho detto, cioè abbiamo trovato tantissime difficoltà di passato, cioè di cose concrete, di contratti altissimi, di giocatori pagati tanto, di problemi economici della società. Cioè veramente tanti, ma poi anche scelta dei giocatori, cioè tanto. Penso che quest'anno, così a voce fene, di calmo, dico, c'è un anno spettacolare, perché è stato difficilissimo, secondo me, di mettere cose, diciamo, a posto, no? Un certo senso. Adesso quello che dici te, società deve prendere la strada. Quale strada vuole prendere? Vedremo. Questo io non lo so. Cioè non ho ancora l'idea di che strada si vuole prendere. Se vuoi prendere la strada di ambizione, allora devi portare giocatori forti, molto semplice. Non perdere quelli che hai e portare giocatori forti, poi dire magari vogliamo fare qualcosina di più. Sino è tutto un altro discorso, cioè là per ambizione, per fare, anche se sono tante società che ci provano e non riescono a fare step, perché non è facile, devi avere, devi fare cose giuste, cioè là, poi questo si vede dopo. E io in questo momento non lo so.